Siamo al centro commerciale Lagorà di Cassano Dadda, con noi c'è il titolare della lavanderia Ambro Rapid. Buongiorno, sono Morigi Marco, la mia famiglia gestisce lavanderia dal 63 e da circa due anni ho rilevato questa attività. Perché questa scelta? Volevo fare un lavoro in autonomia e qui ho visto dal potenziale. Questo negozio era gestito in maniera tradizionale e soffriva dalla momentanea carenza di lavoro, così ho deciso di fare questo passo cambiando però tutta l'impostazione del lavoro. Io ho deciso di implementare il lavaggio e la stiratura delle camice per richiamare clienti vecchi e nuovi, continuando però a dare un lavoro veloce ma di qualità per tutti gli altri capi. E queste aspettative si sono concretizzate? Inizialmente ho dovuto fare delle promozioni ma poi come avevo previsto il lavoro è subito decollato. Con l'Eagle riesco a fare tutta la mole di camicie che mi entro in una giornata. Prima passo collo e polsi sulla pressa e in un attimo mi ritrovo una camicia che è pronta per essere consegnata. Questa macchina è stata un ottimo investimento. Da solo in un'ora riesco fare ciò che una stiratrice farebbe in mezza giornata di lavoro, per cui praticamente questa macchina si sta ripagando da sola. Il risultato sulle giacche mi sembra eccellente. Il Foro Plus è stata una scelta vincente. Giacca a vento e giubbotti escono praticamente finiti, mentre per giacche e cappotti basta qualche ritocco e il risultato è perfetto. Velocità e qualità, questo è quello che cerco. Vedo che anche il pantalone non è un problema. Esatto, prima si stira al bacino sul topper e poi lo si passa sul banco per fissare le pieghe. La maggior parte dei pantaloni sono sportivi e quindi senza piega, per cui basta passarli sul manichino e sono pronti per la riconsegna. Cosa ne pensa della Silver? Beh, con un banco aspirante e soffiante tutto è più facile. Il lavoro è veloce e non si lasciano lucidi le false pieghe. Perché ha scelto il marchio Pony? Volevo quanto di meglio accesso sul mercato e dato che il mio obiettivo è quello di lavorare senza personale, avevo bisogno di macchinari affidabili, di semplice utilizzo e con un'assistenza puntuale competente.